chiedere conferma. Allora adesso passiamo dagli anime e dai fumetti andiamo invece sui film e sul cinema e andiamo che facciamo una serie molto conosciuta, horror, che è Soul Enigmista e Miriam ci porta Ciao Amanda, tu non mi conosci, ma io non conosco te, voglio fare un gioco, se per ti succederà questo, il dispositivo che non si fa per no far di tipo le lasce, quando si azionerà il timer posto sul reto, la tua bocca esploderà, frattumandosi col cranio, una specie di tagliola che orsia al contrario, c'è solo una chiave per neutralizzare il dispositivo e nello stomaco del tuo defunto compagno di cella, come puoi notare Amanda, io non vi copie, quindi non perdere tempo, vivere e non morire, fatto in merita Congratulazioni Amanda, sei ancora viva Molta gente così poco riconoscendo i confronti della vita, ma tu no, non più ora Brava Prarissima, non scappare perché abbiamo delle domande anche per te ovviamente Allora, ovviamente la prima cosa che si nota del tuo cosplay è la maschera che è? Spiegaci che cos'è Claudio, che è una tagliola però se è il contrario, quindi c'è un perno che interebbe nella bocca e al termine del timer si dovrebbe aprire e esplodere la bocca Quindi è una propola delle fissa Sì, è l'amico per il tuo episodio che sopravvive alle clappelle e poi diventa Ah, ok, ok, perfetto, perfetto E come mai hai scelto proprio questo personaggio? Allora, da fine quando ho visto il primo film mi sono letteralmente innamorata di questo personaggio e poi è successivo che diventa l'aiutante, ho trovato a migliorare di più bimbi e ho avventato nel cuore E adesso andate con lei che hai iniziato a studiare Finologia, l'ha studiato in questo corno in quanto lei si è innamorata anche con l'unità di stare, è iniziata questa mia passione molto interessante anche questa ispirazione che ti ha dato il personaggio Molto bello e molto interessante la tua storia Grazie mille, ciao, grazie